Hello, hello, benvenuti ad una nuova puntata di Scopriamo Cosa Mi Hanno Inviato, questa volta il marchio Pizzi. Pizzi ha sempre questi packaging meravigliosi che ti fanno sognare Enchantix, secondo me. Questa volta sono dedicati alle roselline, chissà perché, chissà perché, ho già visto, adesso ve la faccio vedere. Ecco cosa contiene la box, sono tre prodotti ispirati alle rose. Vediamo i tre prodotti. Il primo è il Rostonic, che nutre e soprattutto idrata tantissimo la pelle dopo la detersione. Di questo prodotto io ho scritto tantissimo sul blog. Il secondo prodotto, sempre ispirato a loro, eccolo qua, eccolo qua, è il Radiance Perfector. Questo si può utilizzare anche come primer, oppure io ad esempio mi utilizzo per andare ad illuminare la pelle in certe zone strategiche. e vi faccio vedere l'effetto. Profuma di rose, di rosetto. Terzo e ultimo prodotto è il Glow White Lip Oil. È nella versione rosa. Io ve lo mostro, eccolo qua, con il Roll On. E lo metto qui perché, in realtà, sulle labbra le ho già molto intratate e hanno già un lip gloss. Quindi qua si vede, è tipicamente molto, molto luminoso, con una buona fragranza. E serve soprattutto a idratare le labbra, quindi da mettere in borsa, da tenere sempre lì all'occorrenza. Allora, questi sono i tre prodotti di Pixi, ispirati al rosetto di Petra. Io tanto ve ne parlo sul blog e noi ci vediamo tra poco.